L'aula approva degli ordini del giorno su siccità, resistenza, cave e agricoltura. Asili nido e scuole infanzia, garantire servizi di qualità per tutti. PNRR Sanità, il Piemonte è in linea con gli obiettivi. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati. Siccità, resistenza, cave e agricoltura. Questi temi sui quali si focalizzano gli atti di indirizzo approvati dall'aula di Palazzo Lascaris. Sono sette gli ordini del giorno approvati dall'Assemblea Legislativa nel corso della seduta di martedì. Sulla tutela del patrimonio idrico nella lotta alla siccità si sono incentrati due atti di indirizzo presentati da Paolo Ruzzola e Alessandra Biletta di Forza Italia. Il primo chiede che la regione rilanci i grandi invasi. Il secondo mira a promuovere azioni di efficientamento per contrastare la dispersione idrica. Tutti ormai abbiamo compreso che quelle che una volta erano eventi straordinari adesso sono sempre più eventi naturali quindi periodi di grande siccità che poi si intercalano con momenti in cui abbiamo precipitazioni copiose che ahimè come abbiamo visto possono dare grandi danni sui territori e quindi gli invasi possono darci la soluzione sia su un fronte, quello del contenimento nel momento in cui c'è reccesso che l'altro di rilasciare la giusta quantità di acqua quando abbiamo momenti di siccità. Le emergenze adesso non possiamo aspettare interventi decennali riteniamo che invece investire su dei piccoli bacini come dei laghetti artificiali distribuiti sul territorio sia una soluzione più economica, più rapida e più efficace. Domenico Rossi, Partito Democratico, è il primo firmatario dell'Ordine del Giorno Piemonte terra simbolo della resistenza e della lotta di liberazione dal nazifascismo. Con questo ordine del giorno chiediamo di rifinanziare la legge 41 del 1985 che valorizza e recupera tutti i monumenti ai luoghi della resistenza ci è arrivata una richiesta da diversi sindaci che non riescono a portare avanti questi interventi per mancanza di risorse e poi di finanziare e dare gambe all'intesa triennale che il Consiglio e la Regione hanno fatto con tutti gli enti che si occupano di memoria e resistenza in Piemonte affinché ci sia una ricerca sempre più ricca su questi avvenimenti. Siamo convinti che la lotta partigiana sia il nostro DNA, i nostri bisnonni, i nostri nonni che hanno lottato per la nostra libertà e quindi su queste battaglie, su questi riconoscimenti noi ci siamo perché sono la nostra storia, la storia del nostro popolo, delle nostre generazioni passate. L'Aula ha poi approvato altri tre documenti che esprimono contrarietà alla realizzazione del nuovo polo estrattivo di Druento in provincia di Torino, primi firmatari Sara Zambaia, Lega, Daniele Valle, Partito Democratico e Silvio Magliano moderati. Quest'ultimo chiede anche di istituire un tavolo di confronto con i soggetti interessati. L'ultimo ordine del giorno approvato dall'Assemblea è quello di Paolo Bongioanni, Fratelli d'Italia, che chiede alla Giunta deroghe al divieto di combustione di materiale agricolo-vegetale nei comuni collinari o collinari depressi. Nel corso della seduta di martedì l'Assemblea legislativa ha nominato con 23 voti Roberto Biancardi, nuovo membro del Consiglio di Amministrazione di HydroAid, la Scuola Internazionale dell'Acqua, per lo sviluppo. Asili nido e scuole e infanzia, garantire servizi di qualità per tutti, auditi in quarta e sesta commissioni e sindacati che chiedono un tavolo di confronto sul disegno di legge. Un tavolo di confronto che coinvolga le organizzazioni sindacali e tenga conto delle loro osservazioni nell'attuazione del disegno di legge che disciplina i servizi educativi 0-6 anni. E' quanto hanno chiesto i rappresentanti di CGL, FLC e FLFP Piemonte, auditi insieme al Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, in una congiunta delle commissioni quarta e sesta presidente Davide Nicco. La priorità, più volte ribadita, è che la norma garantisca l'accesso a servizi di qualità per tutti i bambini, ai quali devono essere assicurate pari possibilità di sviluppo, indipendentemente dalle condizioni economiche e territoriali in cui vivono. I sindacati, per i quali resta prioritaria una governance pubblica della scuola per l'infanzia da ampliare anche attraverso i fondi del PNRR, hanno chiesto di prevedere agevolazioni tariffarie per le famiglie svantaggiate per incentivare la fruizione dei servizi 0-6, l'ampliamento e la regolamentazione puntuale dei servizi integrativi, nidi in famiglia, spazi gioco, altri servizi per bambini e famiglie, inquadramenti professionali adeguati per il personale e la definizione di un corretto rapporto numerico tra bambini ed educatori. Le commissioni Ambiente e Cultura si sono riunite in seduta a congiunta, Presidente Davide Nicco, per iniziare l'esame della proposta di legge Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico. La proposta di legge è stata illustrata dal primo firmatario, Carlo Riva Vercellotti, Fratelli d'Italia. Il testo è costituito da dieci articoli. I primi classificano i geositi per creare un catastro dei siti, gli altri riguardano la loro gestione e valorizzazione, anche attraverso un coordinamento che possa promuovere turismo e didattica. PNRR e Sanità, stanziati 922 milioni. Il Piemonte è in linea con gli obiettivi. Al momento non esistono particolari criticità a livello regionale per l'attuazione degli interventi previsti dalle risorse del PNRR e del PNC in ambito sanitario. Trattandosi però di obiettivi nazionali, è importante che ogni regione si impegni a raggiungere gli obiettivi fissati nei tempi previsti. Lo ha dichiarato l'assessore alla Sanità Luigi Icardi nel corso dell'approfondimento tecnico in quarta commissione presieduta dal vicepresidente Andrea Cane sull'argomento. Nel corso dell'incontro, richiesto dal capogruppo dei moderati Silvio Magliano, il direttore del settore coordinamento attuazione del PNRR, missione 6 dell'assessorato Antonino Ruggeri, ha spiegato che le risorse stanziate complessivamente per il Piemonte sono pari a 922,9 milioni di euro. A maggio 2023, ha sottolineato Icardi, il Piemonte ha raggiunto tutti i target previsti. I prossimi passi riguardano i centri operativi territoriali, le case, gli ospedali di comunità e gli interventi per l'antisismica. Sono in corso confronti con le aziende sanitarie regionali per rispettare i tempi di stipula dei contratti. Per questa edizione è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Grazie! 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 Grazie!